Nella precedente puntata abbiamo conosciuto le tre tesi di fondo del sistema egiliano. In questa puntata facciamo un passo più avanti alla scoperta della sua filosofia. Abbiamo già detto che l'assoluto, che è infinito, è dinamico, contrariamente al pensiero statico di Spinoza. Questa dinamicità passa attraverso tre momenti. Il momento dell'idea in sé e per sé, che è la tesi. Il momento dell'idea fuori di sé, che è l'antitesi. E il momento dell'idea che ritorna in sé, che è la sintesi. A me sai che piace molto raffigurare le cose per renderle più chiare possibile. Quindi ho creato qui sempre il nostro cerchio, dove l'idea in sé e per sé è dentro il cerchio, che è la tesi. L'idea fuori di sé è fuori dal cerchio, che è l'antitesi. E l'idea del ritorno a sé è la sintesi. Quindi vedi già dal grafico che la dinamicità parte dall'interno del cerchio per uscire, per poi ritornarci. Ovviamente questa è una mia personale visualizzazione, che serve più che altro per imparare con più facilità quella che viene chiamata la triade dialettica, di Hegel appunto. Perché la dialettica è la legge che regola appunto il divenire dell'assoluto. Iniziamo con l'idea in sé e per sé, che è anche chiamata idea pura. Ed è l'idea in sé e per sé. Eh, dirai, mi prendi in giro. No, assolutamente. Però Hegel è stato molto bravo a dare una definizione chiara di questo tipo di idea. Perché è l'idea in quanto tale, in sé e per sé, per l'appunto, che è svincolata dalla sua concreta realizzazione nel mondo. È l'idea vergine, incontaminata dal mondo esterno. L'idea pura, per l'appunto. Quindi l'idea in sé e per sé è per antonomase alla tesi, perché così è. Poi abbiamo l'idea fuori di sé, anche denominata idea nel suo essere altro. Perché appunto è fuori di sé ed è rappresentata dalla natura, che è la manifestazione spazio-temporale della realtà che ci circonda. Quindi l'idea si aliena, esce da se stessa, per scoprire il mondo in modo empirico, esplorare la natura. E quindi si contrappone all'idea in sé e per sé, perché non è più pura, chiusa in sé stessa, ma invece dentro il mondo. E questa è l'antitesi. Infine abbiamo l'idea che ritorna in sé, che è lo spirito che si fa natura e poi ritorna all'uomo. Torna presso di lui, che in tedesco si dice bei sich, presso di sé. E questa è una sintesi, perché si fa natura, ma acquisisce coscienza e consapevolezza di sé nell'uomo. Attenzione che questa triade e queste frecce che ho messo non indicano un ordine cronologico, dove prima c'è l'idea in sé e per sé, poi l'idea fuori di sé. Ma deve essere visto come uno schema ideale, dove lo spirito è ciò che esiste concretamente nella realtà. E la condizione della sua esistenza è la natura, mentre il suo presupposto, il presupposto di tutti, è la tesi. Quindi queste tre idee sono i tre momenti strutturali di Hegel, ai quali fa corrispondere tre branche in cui viene diviso il sapere filosofico. E sono la logica, la filosofia della natura e la filosofia dello spirito. La scienza dell'idea in sé e per sé è la logica con la dottrina dell'essere, dell'essenza e del concetto. Perché la logica? Perché la logica con l'essere, l'essenza e il concetto è una scienza che prescinde dal mondo esterno. Parte dall'implicito in sé per poi esplicarsi per sé, ma pur sempre al suo interno. La scienza dell'idea fuori di sé invece è la filosofia della natura, ovviamente con la meccanica, la fisica e la fisica organica. Ed infine abbiamo la filosofia dello spirito, che è la scienza dell'idea che ritorna in sé. E in questo abbiamo la filosofia dello spirito soggettivo, perché si focalizza sul soggetto, sull'uomo, sull'individuo, con l'antropologia, la fenomenologia e la psicologia. La filosofia dello spirito oggettivo, perché si focalizza su qualcosa di oggettivabile, come il diritto, la moralità, l'eticità. Ed infine abbiamo la filosofia dell'assoluto, che guarda oltre, verso l'assoluto, verso l'infinito, come l'arte, la religione e ovviamente la filosofia. Ti aspetto nella prossima puntata per parlare della dialettica egheliana.